salve carissimi amici tuttubi sono francesco bentornati nella soffitta di camera mio benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla continuano i video da questa postazione purtroppo scoperto che probabilmente un problema di non tanto di prolunga quanto della mia webcam che quindi questa postazione potrebbe essere un po' più duratura del previsto quest'oggi parliamo giustamente come tutti i lunedì del resto del nuovo topolino il 3362 qui presente nella mia copia digitale e purtroppo non presente nella copia cartacea allegato a questo numero del topolino c'era il primo numero di una nuova collana una nuova serie di quattro numeri il manuale delle giovani marmotte il nuovo se vogliamo manuale delle giovani marmotte con una splendida copertina d'opera di francesco di polito che come si può vincere non l'ho letto si pronuncia un albo piuttosto interessante per gli amanti di questo gruppo delle giovani marmotte tra storie riprese dal filone delle storie italiane degli anni 90 sulla testata apposita giovani marmotte con anche l'inserimento però di storie danesi straniere degli ultimi anni piuttosto recenti insieme a grandi classici di carl barks and co fondamentalmente io sono curioso la tematica mi piace purtroppo l'albo non volendo avere doppi topoline e quant'altro potendo prenotarlo e prenderlo singolarmente in fumetteria l'ordinato in fumetteria vediamo nei prossimi giorni cosa succede se effettivamente la mia fumetteria riuscirà a riaprire o meno e poi da lì effettivamente cominciare insomma a frequentarla più abitualmente diciamo così avete visto che ho già fatto uscire un video di un prodotto che avevo prenotato in fumetteria come avevo spiegato l'ho prenotato tramite fumetteria.com in accordo con la mia fumetteria col codice della mia fumetteria quindi tutto sommato insomma è come se l'ordine l'avessi poi ritirato effettivamente nella mia fumetteria per quanto le cose non stiano esattamente in questa maniera ci ho detto giovani marmotte perché a quest'albero ha legato il primo numero delle giovani marmotte per via della prima storia di questo numero ovvero sia le gm in operazione alaska primo episodio storia scritta da federico rossi e drighi per i disegni di francesco di polito ora federico rossi e drighi è da un po' che non compare sul topolino ma le ultime sue apparizioni sul topolino erano state comunque storie molto valide molto belle mi erano piaciute sicuramente aveva un quid in più quindi di conseguenza sono piuttosto felice che a metterci le mani ci sia questo autore dal punto di vista visivo francesco di polito ha sicuramente dei numeri da giocarsi è un autore un pochettino particolare in campo disney non è così omologato tanti altri autori ha comunque un tratto estremamente lineare pulito bello da vedersi man mano che la storia procedeva avanti ha fatto un bellissimo lavoro di character design lo vedremo meglio nei prossimi nei prossimi episodi mi viene da pensare ha fatto settimana scorsa venerdì una bella intervista con fabi di the fish bio show che vi invito a andare a recuperare se non l'avete fatta dove sono venute fuori diverse cosine interessanti tutto sommato e quindi dal punto di vista visivo ci troviamo davanti comunque ad una storia che è molto bella molto valida dal punto di vista della storia non posso dire di aver storto il naso però l'ho trovata con un ritmo non particolarmente azzeccato ed incalzante la storia si può dividere effettivamente in due parti c'è un problema a casa i nostri qui o qua riusciranno a risolverlo grazie anche all'aiuto del manuale delle giovani marmotte quindi in virtù del fatto che hanno conoscenze dal fatto che sono giovani marmotte riescono a risolvere la situazione e fin qui ok a seguito di questo convocati dal gran mogol si ritrovano insieme a tutti gli altri per scoprire di una nuova missione che dovranno andare a fare in alaska come da titolo dell'episodio il tutto però rimane un po' secondo me troppo vago un po' troppo aleatorio c'è giusto il tempo nel corso di queste poco più di 20 pagine mi viene da dire non le ho contate però la sensazione che siano 24-25 pagine circa che si voglia semplicemente andare a introdurre la vicenda che è giusto che sia così ma il tutto rimane un po' fumoso un po' vago un po' poco per poterla giudicare mettiamola così se il primo episodio della storia di bruno enna aveva diversi elementi doveva introdurre la vicenda e l'ha fatto ma comunque destandomi un certo interesse una certa voglia di andare avanti qui non dico che quella voglia sia subita ma è decisamente minore quindi non se la sono giocata secondo me troppo con i giusti ritmi in questo primo episodio ma rimane una buona introduzione e mi viene anche da dire che molto probabilmente il prossimo numero rimane comunque godibile nonostante questo primo episodio che mi sembra quasi più un passo falso vedremo nel corso dei prossimi episodi come andrà a parare io non mi non mi posso ecco non posso giudicare la storia non mi sento proprio di poterlo fare perché non c'è abbastanza non c'è abbastanza materiale per poter dire mi è piaciuta non mi è piaciuta mi ha lasciato un po' troppo indifferente però si è introdotta la cosa e la cosa di per sé è interessante vediamo dove va a parare per ora giudizio rimandato direi per questo primo episodio ma le potenzialità ci sono si conclude la storia di Bruno Enna per i disegni di Alessandro Perina una storia in quattro puntate dedicato a Raffaello Sanzio anzi a Paperello in questa versione Zeppo Perone la pietra dell'oltre blu con finalmente tutti gli snodi tutti i nodi che vengono finalmente al pettine scopriamo qualcosa di più su Amelia scopriamo che fine ha fatto forse la pietra utilizzata da Raffaello per fare i suoi dipinti scopriamo che mistero si nasconde dietro e devo ammettere che senza stare a tergiversare troppo senza stare a fare grossi spoiler confermo il mio giudizio delle settimane scorse questa serie mi è decisamente piaciuta di più di quella dell'anno scorso legata a Leonardo da Vinci ripeto, probabilmente lì la storia era stata sì commissionata come in questo caso ma magari con poco tempo quindi l'autore ha fatto un buon lavoro ma si è limitato un po' a citare quant'altro qui ha creato comunque una trama un pochettino più sostanziosa un pochettino più di interesse che getta le basi per un'altra storia un'altra storia che fin dall'inizio di questo editoriale Alex Bertani ci anticipa quindi non leggete l'editoriale di Alex Bertani prima di aver letto questa storia in maniera anche abbastanza sciocca se vogliamo capisco che è la storia di punta del prossimo numero quindi l'ha introdotta e giustamente l'editoriale è lì e lo leggi lì dall'altra parte però mi ha fatto cioè quello che dovrebbe essere il colpo di scena il mistero finale il punto interrogativo sul perché questo finale viene di fatto già svelato proprio dall'editoriale di Alex Bertani il che da un lato è un peccato dall'altro lato Alex Bertani ci tiene anche a fare un po' il confronto con quella che è la realtà italiana attuale quindi con l'impossibilità nostrana e purtroppo in questo periodo di uscire liberamente di girare fondamentalmente anche in giro per l'Italia e quindi i nostri papri lo faranno al nostro posto e niente la storia mi è piaciuta è stata molto valida molto bella probabilmente non a livelli poetici di cui Bruno Enna ci ha dato assaggio nel corso degli anni ma Bruno Enna è quell'autore che molto probabilmente non dico che sia ai livelli di casti non dico che sia come casti ma sotto questo punto di vista ricorda molto casti ricorda molto anche Francesco Artibani dagli una storia a lui anche se è una storia nulla di che è comunque una storia di alto livello figuriamoci come sono le sue storie di alto livello e quindi un buon intrattenimento anche con qualche nozione legata a Raffaello Sanzio cosa che sinceramente è bella che ci sia fondamentalmente visto che era una storia legata a quello qualcosina c'è nulla di troppo approfondito ed è qui che secondo me emerge un problema di questa e della storia successiva i pochi approfondimenti non ci sono redazionali o meglio qui secondo me qualcosina c'era anche se era più giocosa la cosa e quindi l'ho un pochettino bypassata ma per la storia successiva ovvero sia la nuova storia del ciclo della storia dell'arte di Topolino Agente Papirin Palladio e la missione architettonica di Roberto Gagnor per i disegni di Valiero Held anche se Roberto Gagnor ci tiene a sottolineare che è stata una storia fatta con una classe di una scuola adesso dovrei andare a rileggerla non lo faccio però il senso è che con questa scuola si è collaborato e si è arrivata a creare questa storia con alcune gag probabilmente venute fuori proprio dagli studenti dagli alunni della scuola e poi successivamente rese in maniera organica omogenea proprio da Roberto Gagnor che quindi devo ammettere ha fatto un buon lavoro con Palladio architetto in questo caso qui in una missione pseudo-spionistica alla ricerca di certi elementi che poi lo spingeranno effettivamente a fare le sue opere architettoniche per come sono note ed è una storia buona buona ma anche qui non mi sento dilungarmi troppo perché non ci sarebbe effettivamente troppo da dire ottimi disegni di Valero Eld che apprezzo tantissimo come ho già avuto modo più volte di ripetere nel corso delle mie video e opinioni quindi benvenga questo stile di disegno è una trama comunque gradevole leggibile ma manca secondo me un approfondimento chi era Palladio cosa ha fatto quando è vissuto più o meno lo si può intuire visto che la storia è ambientata sempre nel 500 quindi ok però manca secondo me una paginetta due paginette dedicata come approfondimento redazionale per proprio approfondire la conoscenza con questo architetto con questo autore ed è se vogliamo l'unica cosa davvero negativa da segnalare all'interno di questo topolino degli editoriali meno presenti rispetto al passato perché questo ciclo in passato era sempre correlato anche da una bella mole di editoriali di approfondimento che non sono stati fatti per l'occasione ed è secondo me un peccato mi scuso intanto se avete visto cambio di luce e quant'altro ma mi ero dimenticato ma ho perso proprio mentre spogliavo in digitale il topolino questa storia nello specifico quindi adesso vi parlo di quando Pippo entra in libreria di Marco Bosco per i disegni di Davide Baldoni si tratta di una storia breve quindi sì non è una storia di punta del topolino quindi ciò non va non è una scusa per dire che facevo bene a saltarla ma giustamente si è persa un po' sfogliando velocemente in digitale il volume storia breve 8 pagine circa mi verrebbe da dire 6-8 pagine abbiamo Pippo che entra per l'appunto in libreria alla ricerca di un libro e da lì si crea una serie di gag più o meno riuscite quindi lì va secondo me anche un pochettino a gusti su questa ricerca di questo libro personalmente ho trovato la storia non particolarmente azzeccata per il personaggio mi spiego meglio Pippo entra con un obiettivo un obiettivo che a noi lettori non ci viene detto fino alla risoluzione finale è abbastanza facile in realtà arrivare a capire dove si voglia andare a parare che cosa stia realmente cercando Pippo quindi ok dato che si fa delle battute in quella in cui si capisce che cosa stia davvero cercando pur tuttavia ho trovato questa storia un po' poco adatta al personaggio di Pippo la situazione che si viene imbastita ciò che viene detto è quasi più da Paperoga che non da Pippo Pippo è un personaggio sbampito molto ingenuo molto credulone però non arriverebbe mai secondo me a teorizzare qualcosa del genere quello che fa sarebbe secondo me più adatto a Paperoga quindi a gusto personale ho trovato un po' snaturato il personaggio per quanto si tratti quindi comunque di una storia breve quindi nulla che vada a poi andare ad intaccare pesantemente il personaggio però mi ha fatto sentire un pochettino strano storia ha il suo modo divertente intendiamoci ha la situazione la gag centrale secondo me piuttosto riuscita un po' meno la risoluzione finale però tutto sommato come riempitiva ci sta la breve la breve di questo numero ride bene chi ride ultimo di Enrico Faccini divertente molto semplice ben disegnata non starei a dilungarmi troppo perché non ha non ha molto senso di cosa parla la storia è un divertimento con Archimede che ha costruito questa macchina che fa ridere fondamentalmente le persone che insomma vengono a contatto con questa macchina e ci sono un po' di gag in realtà nulla di che secondo me questa potrebbe essere una di quelle storie da magazzino segregate per diverso tempo da diverso tempo e e ci tacciate fuori per far foliazione fondamentalmente mi sembra abbastanza evidente perché anche come gag non è che sia particolarmente hilare e riuscita anzi sembra un po' buttata lì ed è un peccato considerando che ai testi e disegni ci sia proprio Enrico Faccini che in passato ha scritto delle gran belle storie molto divertenti e che qui non ha saputo convincermi non quanto la sua storia con Marco Nucci per intenderci lì effettivamente c'era una bella verve creativa in più però come riempitiva diciamo che ci può stare si prosegue con Pico de Papiris è il problema del blackout storia con i disegni di Francesco Guerrini disegnatore che in passato ho avuto modo di dire che non mi piaceva molto il suo tratto ma che qui ho riscontrato diverso sarà che quando penso a Francesco Guerrini mi viene in mente una delle sue terremoto su PKNA che era tipo il terzo quarto numero su testi di Francesco Cartibani e lì il suo stile era molto diverso da quello attuale e lì non mi convinceva faccio sempre quel salto penso a Francesco Guerrini mi viene in mente stile che non mi piace e invece è stato anche gradevole anche complice una colorazione con i giusti giochi di luce ed ombre secondo me particolarmente azzeccata non so se le indicazioni sono di Guerrini o sono di qualcun altro ma in generale è stata una bella sorpresa un tratto forse non per tutti ma comunque gradevole ai testi troviamo un autore che sinceramente speravo potesse tornare prima o poi sul topolino ma che era anni che non lavorava più sul topolino per divergenze con la vecchia redazione mi viene da pensare che è Rudy Salvagnini Rudy Salvagnini autore ai tempi se vogliamo citare forse quella che è la sua opera più famosa che è il mercoledì di Pippo che ritorna finalmente e chissà se continuerà a stare sul topolino incrociamo le dita ce lo auguriamo la storia qui sembra mentre la storia precedente sembra uno di quei resti del magazzino qui effettivamente già semplicemente leggendo la storia si evince che forse non è così il personaggio principale è Pico De Papris un personaggio che effettivamente non è facile da utilizzare e che qui viene usato secondo me con sapienza maniera piuttosto divertente e precisa non è insomma una storia con Pico De Papris un po' così che sa tutto punto fine a se stesso Pico deve fare questo libro e si trova con un problema legato al fatto che all'improvviso c'è un blackout a casa sua si spegne tutto quanto e con Paperino capisce che il problema principalmente è che non ha pagato le bollette da qui comincerà tutti i discorsi anche molto filosofici molto aulici molto alti proprio in virtù del fatto che Pico è molto edotto e quindi di conseguenza tratta tutti in maniera un po' male fondamentalmente e da qui nascono delle situazioni che secondo me è difficile da cioè per chi coglie questo come elemento ilare lo trova ilare per chi lo vede in maniera un pochettino seria sembra una roba pesante e barbosa quindi secondo me è una storia che va letta col giusto mood cercando di intendere quello che Pico dice in maniera distorta in maniera che faccia ridere e non come uno che fa solo il saputello fino a se stesso che è un po' quello che fa cioè lo fa il saputello d'accordo però da lì dovresti cercare di trovare il modo di farti sorridere lo so che detta così sembra che sia una storia non riuscita o brutta io ci ho riso sopra mi è piaciuta l'ho trovata divertente l'ho trovata ben riuscita mi rendo conto che però va letta secondo me con la giusta ottica perché altrimenti sembra una storia un po' così una storia un po' fine a se stessa una storia non particolarmente ilare o almeno mi ha dato questa impressione qui che potesse esserlo per quanto invece come vi ho detto a me è divertita e mi è piaciuta quindi sono entrato subito nel giusto mood nel mood di ok pico tirerà fuori chissà quali massimi sistemi sulla domanda più banale e il contrasto tra le due cose fa scaturire una risata mi rendo però conto che magari ad un lettore più giovane possa sembrare semplicemente cose buttate lì ok quindi secondo me è una storia che da più adulto più maturo fa ridere per il contrasto che viene fuori ad un lettore più giovane non riesce a cogliere quella sottile ironia e quindi di conseguenza sembra una storia barbosa secondo me ecco è una storia che si gioca molto sul limite molto sul confine però ecco diciamo che come il ritorno di Rudy Salvagnini mi ha fatto piacere vedremo ecco se continuerà a collaborare o meno io incrocio le dita e me lo auguro così come mi auguro che giustamente col suo ritorno possa ritornare la leggenda di collection con i mercoledì di pippo abbiamo già avuto notizie positive in merito spero che prima finisca visto che l'hanno riaperta i wizard of mickey e poi insomma si prosegua con i mercoledì pippo chiude l'album una storia di silvia martinoli predisegni di davide cesarello ovvero sia pippo topolino e lo stellocchiale di astrus de pippis pippo trova un cannocchiale strano appartenente a un suo bisbis in soffitta e succedono cose pippo pensa che siano chissà quanto magici chissà quanto strani in grado di far vedere chissà che cosa e invece sono un cannocchiale tutto sommato comunque un binocolo e da qui un paio di gag anche qui non è stata una storia particolarmente secondo me brillante e riuscita non quanto le storie antecedenti presenti sempre all'interno di questo numero di topolino in definitiva mi viene da dire che è un topolino che faccio fatica a dire acquistatelo non è un brutto topolino è quella sufficienza che mi fa dire ok se lo prendete male non fate purtuttavia effettivamente mi sento di consigliarlo fortemente a chi stava già seguendo la storia di Raffaello Sanzio così che possa effettivamente leggerne la conclusione e questo nonostante un esordio che è quello delle giovani marmotte ma proprio perché questo esordio non è così forte mi viene da dire aspettiamo il secondo episodio e probabilmente leggendo il secondo episodio anche semplicemente leggendo la sinossi del numero precedente sapete ampiamente siete perfettamente in grado di comprendere i meccanismi della storia che cosa stia succedendo e probabilmente mi auguro incrocio le dita possa essere quell'episodio decisamente più interessante diciamo che il prossimo numero ha le carte in regola per essere decisamente più interessante però ecco staremo a vedere e questo è un po' quello che avevo da dire per oggi qui da Francesco dalla soffitta di camera mia è davvero tutto nel caso in cui vogliate lasciatemi un commento così che possiamo discutere ancora di questo numero di topolino e dialogare proprio insieme di questo numero nello specifico in tranquillità se mi volete dare un'ulteriore mano e volete diffondere la soffitta continuate fatelo vi ringrazio già in anticipo mettete un mi piace al video se il video vi è servito vi è piaciuto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao